Ciao ragazzi, oggi facciamo una bella partita a Battlefield! Essendo il mio primo vlog sul gameplay, spero che vi piaccia e speriamo bene! Ok, premetto che non gioco a Battlefield da parecchio tempo, quindi siate clementi e non mi insultate! Ok, se si carica... Non si vede un cazzo, non si vede! Un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione... Ma guarda tu, ma dai! Vaffanculo, vaffanculo, testa di cazzo, bastardo maledetto! Negraccio pezzo di merda! Negraccio pezzo di merda, bastardo schifoso! Un kit sentinella è disponibile vicino alla posizione... Ma dai, ma guarda tu... Andiamo, andiamo, andiamo... Oh, adesso si che si comanda, zio! E andiamo! Andiamo! Dai! Mi sento come... Erpacino! Mi sento come Erpacino! Dai! In Scarface! Dai! Dai! Movi! Dai! Movi te! Dai! Sei lento, eh! Ma... Eccolo! Mamma mia! E uno fuori! E uno è stato fatto fuori, ragazzi! Uno è stato fatto fuori! Avanti il prossimo! Dai! Su, su! Ce n'è per tutti qui! Ce n'è per tutti, ragazzi! Con sta cazzo di nebbia mi sembra di stare a Milano, porca puttana! Con questa nebbia qui non si capisce niente! Non si vede in una merita ceppa! Non si vede... Oh! Ma c'è nessuno! Ma dove cacchio stanno? Questo, amico mio! E cazzo state? Eccolo! Ma dai! Ma vieni! Succa! 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 Fammi ricaricare, sennò qua... Finiamo male! Non si vede un'emerita ceppa! Un'emerita ceppa! Non si vede! E vai, va! Dove cazzo è andato quell'altro? Ma vabbè, ma vabbè da qui! Vabbè che c'ho l'armatura, però... Ho scappato! Olè! Vittoria! E dai! E dai! E dai! E dai! E dai! Vabbè che c'avevo l'armatura, eh! Però... Dai, dai, dai! Facciamo un'altra partita! Su, 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 su! Coraggio! Coraggio! Iniziamo, ragazzi! Speriamo bene! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Eccola! Già cominciamo! Ah, cavolo! Eh, muori! Azzo! 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 Maledetto! Maledetto bastardo! Questa mappa è immensa, quindi... Per trovare un... Eccolo là! Spalli del diavolo! Mamma mia! Nei to shoot! Merda! Merda! Mori! Sono in concentrazione massima, quindi se non mi sentite parlare, ragazzi, è perché sto cercando... Eccoli là! Fanculo, bastardo! Maledetto! Fanculo! Oh! Nego, com'eri! Credo che sia morto! Oh! Sto girando a vuoto! Sto girando a vuoto! Qui? Non c'è nessuno qui! E muori! Ma chi cacchio l'ha ammazzato al posto mio? Eh, cavolo! Cavolo! Dai, dai, dai! Su! Dai, dai! Mo' mi avete fatto incazzare di brutto, eh! Mi avete fatto incazzare di brutto! Oh, oh! Vediamo un po' se riesco a ammazzarlo... No! Dai! L'ho coltellato! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Certe volte premisco COD! Almeno con la... ZAC! Una cortellata e mori! Questo invece... Fai finte! Prima mori, poi non mori! Oh, oh! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Vabbè... Io... Ve lo lascio... Oh, cazzo! Eh, vabbè, però... Eh... Vabbè... Così non si può, eh! Non si può, ragazzi! Non si può! Non si può! Non si può! Non si può! Eh, vabbè, vabbè... Non è possibile, dai! Non è possibile! Guarda, questi pezzi di merda! Ah, che spara questo? Oh, oh! Eh, mamma mia! Eh, dai, su! Oh, per forza quello con l'armatura mi capita, eh! Non c'è niente alla fa, eh! Eh... Ce l'ho fatta, finalmente! Ad ammazzarne uno! Ancora tu! Eh, cazzo! Su, chiamelo! Su, chiamelo, stronzo! Ce l'ho fatta, oh! Che schifo, ragazzi! Cioè, io col col coltello... Niente! Quello! Vabbè! Ce... Ce la faremo! Vai, Johnny! Dai! Dai, Johnny! Siamo 49 e 46, Johnny! Dai! Dai, ce la possiamo fare ancora! Dai! Ce la possiamo fare, dai! Ce la possiamo fare, Johnny! Johnny è il nome del soldato, eh! Gli l'ho dato io, così! Per darmi un nome! Allora, lì c'è qualcuno! Ci, ci è, c'è, c'è... Oh, oh! Eh no! Mannaggia! Mi fregano sempre le uccisioni! Ma non è possibile! Non è possibile, porco Giuda! Non è possibile! Certo, questa macqua è troppo grossa, eh! Cioè, uno per camminare... Deve fare 40 chilometri... Per trovare un... Un tizio armato! Un tizio armato! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Eh, muori! Dai, ricarica! Sbrigati a ricaricare! Muoviti! Qui non mi piace stare qua, lo sapete? Io me lo vado di qua... sarò la volevo ammazzarlo io però qui non c'è nessuno abbiamo quasi vinto che abbiamo quasi vinto dai ragazzi ma qui non c'è nessuno devo andare per forza lì eh per forza lì ecco ogni volta ogni volta mi beccano a me quello è uno dei nostri dove cazzo sta non c'è nessuno qui non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno oh è quello Non è possibile Ne ammazzo uno E me ne ammazza a me uno Non è possibile Che schifo Che schifo Bastardi maledetti Ecco E mi ha fatto un brutto volo Dai 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 che la vinciamo questa Dai Devo ricoverare Un'energia Vai dai 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 Ora sei il caposquadra Grazie al cazzo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Con un po' di Di fatica però abbiamo vinto Spero che vi sia piaciuto questo Questo gameplay fatto da me È stato il mio primo gameplay Dal vivo Ci vediamo Prossimamente ragazzi Ciao